dato quanto bella l'intro del moon studio reami perché da quel che ho capito uno può crearsi proprio il mondo e più personaggi però che non devono ricominciare la storia ma che possono infilarsi in più mondi e tutto quanto quindi andiamo sul creare ami che credo sia il mondo invece un cazzo stiamo creando il personaggio non me l'aspettavo questa cosa possiamo farlo femmina o masculo andiamo di masculo o di femmulo potremmo fare quella di wulong ho capito ma questa ti tira un calcio di sderena questa questa non è tic questa è fortissimo l'uomo c'ha il sopra enorme la donna il sotto vabbè scelta estetica ci sta andiamo di signorina ah ok abbiamo delle facce pre made si può personalizzare viso capelli occhi naso bocca ah soltanto il viso ok ma guardate vada che bellino acconciatura ma in realtà credo che quella standard era perfetta per yanara davvero yanara era bionda certe modifiche io continuo a dirlo questa signorina con ste cazzo di gambe ci sfonda i cocommeri è devastante seleziona un reame fai ingresso in reame che attende la tua presenza questa è una cosa che apprezzo perché cioè poter fare un mondo e quindi magari fare tanti personaggi che ci girano te dentro è figa come roba dai un nome al reame ah puoi scegliere anche se farti o no il tutorial il prologo corjanza salve negli ultimi sei anni abbiamo dato il tutto per tutto per creare un'esperienza a rpg action rpg di livello superiore speriamo questo titolo riesca a spingere il genere in una nuova direzione e potrebbero riuscirci da quel poco ho visto il lancio in accesso anticipato di non rest for the wicked segna una nuova era per noi di moon studios siamo grati di averti al nostro fianco in questo viaggio apprezziamo enormemente il tuo feedback e il tuo aiuto nel perfezionare il gioco in vista del rilascio della 1.0 preparati per un'avventura epica e combatti strategici e viscerali ma ricorda che i lavori sono tutt'altro che terminati se è tutto pronto è ora di fare rotta verso sacra questi sono gli stessi che hanno fatto ore sì infatti io ripeto per quanto riguarda l'ottimizzazione neanche me la son presa tanto perché appunto è tutto un nuovo ambiente per loro anche se ripeto una 3070 ti è greve c'è un cazzo a dighi a livello estetico sono proprio dei mostri quelli della moon ok iniziamo così adoro inventario statistiche attività mappa pergamene note impostazioni però bello mi ricorda per centi frangenti divinity non lo so perché ecco l'unico fatto è che la telecamera dopo un po ti può far venire lo sbratto forte 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 ecco questa è la cosa che a me mi aveva intrigato molto e che c'è anche tanta verticalità e questa è una roba che sembra una cazzata ma non è banalmente il salto alla elder ring c'è il potersi arrampicare verso l'alto il poter saltare il poterti fare delle robe strane qualcosa di interessante lì alla esplorazione ah ok non è che è una parola che non capivo di qualche luogo è un po come non morto prescelto serim c'è il protagonista di sto gioco questa messa palesemente per farmi cadere di sotto come una merda immagino ho paura del danno da caduta in un gioco del genere alcuni oggetti possono essere distrutti in questo modo è possibile scovare bottini o sentieri nascosti ok per strisciare c'è la furtività r3 poi che c'è la furtività davvero ma adoro bello che abbiamo attorno un fodero senza spada è che anche questa roba è roba che ti fa esplodere la scheda video perché questo è quel tipo di fisica non a livello cpu ok perché se potrà veramente cucina c'è il pezzo di carne che abbiamo preso dal mostro dal topolone tu magari te lo cucini zuppa di funghi hai ottenuto il cibo generalmente mangiati di genere salute ma alcuni cibi forniscono anche bonus temporanei vabbè quindi a breve qui terra bruciata devo deturre a te te ritrovo sicuramente con la gola tagliata appena succede il bordello ah abbiamo avuto una visione che saremo morti in mare se non ci fossimo svegliati o che è quello che sta per succede elementi base del combattimento attacchi nemici con quadrato infliggi danni aggiuntivi tenendolo premuto e lui di gli attacchi per adesso stop e con l2 c'è il perry lo sapevo dai che ci voglio provare ah però non è che se staggrano per fargli un repost magari se gli vado alle spalle posso fargli il backstab se io ti vengo alle spalle c'è il backstab adoro pezzo di merda c'hanno dei tempismi molto particolari ah c'è questo è sbilanciamento però non gli posso fare un repost che rimane vulnerabile basta ok però io posso fare questo è molto bello sotto le mani sì bisogna entrarci però perché non so come spiegarlo è molto responsivo ma al tempo stesso sembra un po ubriaco ripeto non so come dirvelo perché è molto sempre che tu stai con queste animazioni molto fisiche e quindi vai molto di di pancia diciamola così vai tanto tanto di pancia poi perché ti devi anche abituare pugnalata alle spalle a volte puoi sfruttare l'elemento sorpresa a tuo vantaggio prendi nemici alle spalle per fare apparire un'icona per farti vedere ok qua puoi fargli il repost bravi bell'idea per sferrare un attacco alle spalle puoi muoverti furtivamente facendo quella roba di prima ok quindi chissà se ti puoi fare anche delle build da ladro per andare alle spalle a coltellare repost essere rapidi furtività no aspetti aspetti scusa eh un momento no no arrivederci peresetti snakey there piripipipipi un tot trail madonna che bella tutta sta fisica in giro sta cosa è veramente è da sborra spezza le schede però è da sborra è quella che ha narrato l'intro capisci perché sembra un po ubriaco perché effettivamente ha le animazioni tremendamente cartoon sono animazioni brutalmente cartoon oh nemico unico aspetti becca si fa permesso permesso fate passare che qua tocca a minare le mani porca puttana ma è devastante so so it's true the king is dead long live the king he was a great man and a good friend i will mourn him we will all mourn him your father's soul is at rest now king magnus the people look to you for strength i offer my condolences and my counsel as i did for your father the great pestilence has returned lord barris yes i have heard the rumors they're not rumors even now it ravages the island of sacra just off our own shores turning their men and women into unspeakable things the pestilence is a punishment upon those who have lost their faith is it now how convenient you question the church you're not the church madrigal you're just the tip of its spear enough whatever the cause of this sickness i cannot allow it to spread my father has been weak for many years i will begin my reign doing what he could not my king you are grieving i must recommend against it's already done tomorrow madrigal selene and her inquisition will set sail for sacra i promise we will cleanse the island of this wickedness our new king's faith in the church is well placed our king's faith was never in question ellsworth is a strong ruler your grace sacra will recover no sacra will be reborn this is my responsibility to the kingdom with god's hands we will reach into every corner of the island and bring it like a newborn babe screaming into the light io la fottuta pelle d'oca non è che è tipo tim burton cioè se io dovessi accostare sto stile grafico nelle cutscene io direi arcane quanto cazzo ricorda arcane cioè questa è proprio animazione 3d mischiata a 2d all'apice è l'apice è una roba come se muovono le espressioni tutte proprio le tecniche dell'animazione perfette dell'esagerare leggermente le espressioni è qualcosa di devastante ma in live voi tra l'altro non noterete ma ci sta una minuziosità nella roba ti ricorda anche appunto disonoide perché disonoide c'ha quell'effetto molto sorta acquerello no con roba tipo fatta col pennello che appunto era la cosa molto arcane cioè arcane è mix tra 3d e 2d qua è stessa roba andiamo quindi adesso liberi di fare il cazzo che vogliamo le secche moderato ti dice anche il livello qui sbrilluccica granchio a ferro di cavallo viaggendo per l'isola di sacra scoprirai numerose risorse raccogli risorse fondamentali per avanzare nel gioco e sopravvivere tanto qualcuno che mi chiama cazpetti che io devo esplorare io qua vedo luttini signore so che la via è per di là ma io devo esplorare devo capire ascia del bosca io lo dirame hai ottenuto un attrezzo gli attrezzi ti consentono di raccogliere nuove risorse ah non è un'arma ah c'è anche il foraggiare eh ma penso che questo non è il gioco che fa per loro franghi perché da quel che ho capito possiamo anche abbattere gli alberi ma serve per prendere il legno letteralmente sì ho appena spaccato una guercia di 200 anni uno di legno mi prendi per il culo posso nuotare su sto gioco sì e c'è molto alla zelda il loot è total random tipo diablo 4 ma anche proprio dei i lootini che trovo in giro per la mappa nelle ceste e compagnia perché se è così adoro davvero ma figata bella sta cosa dato che puoi nuotare quindi non rischi di affogarti come una merda puoi addirittura pescare comincio a capire perché l'hanno tolto in caso il coop perché gesti tutta sta roba in cooperativa è greve anche il doppiaggio tra l'altro è un top non l'ho menzionato ma tanta roba dove cazzo sta andando no oh no piano ma ho paura ma ho capito ma non ci arriverò mai con un salto lì o quello che intendeva sulle radici quelle sono radici? sono radici però madonna io continuo a dirlo quindi se fixano sti cazzo di cazzetti di baghettini questa è tanta roba ma io posso ma minchia mi ammazzo si devo vedere se c'è il lock on cioè se passo sopra una cosa dove ci posso salire si blocca lì e via ci si può arrampicare si avete quello che vi intendevo di verticalità qua non è la scaletta dei souls oh cioè quindi qua voi avete trovato altra roba voi non avete trovato queste dual e magari neanche l'elmo madoro questa è una figata categoria di peso determina il tipo di schivata leggera finta capriola capriola lenta e tra l'altro puoi fare per dare una spallata ma adoro giustamente in fat troll ok c'hai meno frame o una schivata un po' più così che tanto tocca anche vedere se ci sono frame di invincibilità o se è colpo colpo cioè se io sto là me lo becco punto perché questa pure è da vedere però ti danno il fatto che puoi tirare una spallata ah serve 11 forza 11 intelligenza per utilizzarla incantamento del calore hai una spada da battle mage braceri puoi usare i braceri per cucinare risorse ottenute ogni piatto ha un effetto differente la maggior parte rigenera la salute ma alcuni possono conferire effetti di stato temporane ricorda di cercare le ricette per imparare a cucinare una grande varietà di piatti a me che piace fare il cuoco in dnd perfetto salvi e funghi va bene il piatto standard immagino sussurri hai sussurri sedim puoi riposare e registrare i tuoi progressi se mai dovessi andare incontro alla morte e subirai una perdita di integrità ma l'ultimo sussurro visitato ti richiamerà l'esistenza ah no mi sa che in realtà eravamo morti però boh ci ha fatto tornare un po' indietro o qualcosa del genere ma la vera domanda è come livello? è quella barra bianca? c'è il level up classico? proprio a xp? uh dei un momento e torno pezzo di merda quasi eravamo nei souls da mo' che ero morto come uno stronzo il telecamera dall'alto ah però non mi cura sta roba minchia è tipo survival survival altro che ci sartele e tornarte nel falò no 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 vatta a foraggiare della roba stronzo minchia qua se non stai attento però rischi di bloccate peccate sto backstabbo merda ah proprio cambia la zona più andiamo avanti più sto coso promette fottutamente bene bisogna riempichersi qui madò adoro diciamo che il modo per non cascare come delle perecotte è che quando saltate mollate l'input perché almeno si incolla lì e stop voglio provare questo eeeh finestra dire che 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 è piccola e di che è poco cacci tua vaffanculo proprio che il peri è tipo credo siano boh 4 frame una roba del genere è quando lo premi il peri quindi deve stare qua la spada per prenderla ma la vera domanda è io potrò farli gli attacchi in salto cazzo si ma adoro oh ecco perché non hai attaccato perché sei un alchimista tu che dolore e hanno fuoco amico però impara from fammi mangiare il pastino fammi mangiare il pastino momento mangia il pastino setta lei laggiù ha rotto i coglioni però però le mosse stannano sempre al 100% questa è una cosa molto buona e anche gli attacchi pesanti perché giustamente se quello è un counter con cui io schivo e poi ti rientro che se ti rientro e non te stanni è da da incazzarsi invece no oh ma lì aspetta c'è un segreto eh aspettate mo ci riproviamo mo ci riproviamo andate un attimo c'è stato un errore tecnico mi sa che non ci posso arrivare meno male che sono caduto in acqua ah no perché vedi io come al solito salto come uno stronzo ma in realtà è da fare così questa sarà una cosa che succede veramente tanto spesso vero no chiave del ponte a ovest grazie gioco che sei uno di quei giochi in cui mi dici che cazzo di chiave serve e non serve una chiave so che dici è anti cosa però cazzarola oh tanto guarda che bello con la faretra madonna bastone contorto oh è un'arma da mago impugnare abbacchetta un bastone ti consente di lanciare potenti incantesimi grazie alle loro rune uniche lanciare un incantesimo consuma concentrazione ok però perché comunque un minimo in mezzo a tirare le botte ci devi essere però credo perché se no ha concentrazione a parte con le bozzette come la fai salire oh guarda che c'è anche l'animazione unica per camminare ma adoro incantesimi caricati per lanciare gli incantesimi caricati è necessario tenere il primo del comando fai attenzione il lancio di questi incantesimi può essere interrotto tu puoi incanalare concentrati no è la mia vita quella per signor maresciallo mi sembra un po' una cazzata questa ma perché c'è sta anche la roba da chierico con cui le curie in combattimento onde poi ti arriva una ammazzata tra cape e collo vabbè visto che sta palla di fuoco mi è costata tutta la salute del creato io direi di non sprecarla signore lei prenderà la mia palla di fuoco mecca madonna abbastonate come mia mamma quando ero piccolo non ti devi approcciare però sto combattimento come se fossi in un souls ok nella base base pure pure però un combattimento che potrebbe somigliargli ma è molto molto cartoonesco tu ti magari approcci in questo modo come se fossi in un souls con ok sto lento aspetto che attacca e poi mi tolgo mentre no avete c'è i mostri le persone hanno delle animazioni molto appunto rigdollose ma che sono molto precise no lui che ti salta gli puoi dare la botta ma poi ti puoi togliere dal cazzo la base si per carità è quella dell'action rpg però c'è in realtà molto molto altro dietro c'è tremendamente molto altro che dall'altro pure una cosa che avevo sentito e che mi ha fatto stupire tantissimo è che questo gioco ha fatto una roba molto interessante a livello tecnico a livello tecnico da quel che ho capito hanno sviluppato una sorta di roba per il quale il tuo framerate non ti debilita a livello di input perché questa è una roba che quando ho sentito ho sbiancato cioè ovvero se voi lo giocate a 30 e lo giocate a 60 tecnicamente non dovrebbe darvi appunto dei ritardi di input e questa è una roba che è una figata assurda il framerate e l'input lag vanno separati esattamente e questo è qualcosa di me coglioni veramente tanto me coglioni ragazzi al cazzo che serve una 3080 raga ma sta a capire che sta a piove da anora e quella c'è un problema il doppio ascensore no ma là se dovrebbe cominciare anche a parlare pago di sviluppatori non ne parliamo tantissime volte ma tu puoi avere anche la ferrari d'ultima generazione se tanto gli fai girare sopra una roba che la porta al limite che è ottimizzata col culo puoi averci anche la cosa più potente del mondo io posso averci anche 32 petabyte di memoria come RAM se io creo un software che lo avvio ed è scritto che riempi tutta la memoria possibile che puoi allocare quello può essere pure Pacman me occupa 32 petabyte di memoria è quella la cosa infatti che a me mi fa incazzare il fatto che noi pensiamo escono le serie 5000 abbiamo la 4090 super tutte ste cose ma non pensiamo al oh cerchiamo però di dargli una mano a ste povere schede ah perché la carica posso annullarla in qualche modo ho il sole sono diventato Escanor manca il baffo dio credo boom schivano le merde schiva palla di fuoco allora io ho l'inventario pieno manto dell'incendiario mato mato ma che bello ma che cazzo gli archi sono dotati di rune uniche che ti consentono di scagliare una raffiga di frecce mortali a distanza utilizzando un arco consuma concentrazione ok l'hanno bilanciato così ma è di spalle raga quale sono le sue spalle vabbè che non glielo potrò fa un backstab a sta merda madonna madonna ma che figo aspetta fammi mangiare fammi mangiare fammi mangiare fammi mangiare dai 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 zuppetta tattica ma questo è un madonna schiva come un addannato perché puoi si adoro che bello il fast roll una volta che tu entri nell'ottica è di un godereccio perché si ok ce l'hai dei frame di invincibilità ma su per toglierti dal cazzo dall'attacco grande e posizionarti bene facciamo dei funghetti trifolati è stato conosciuto una persona che pensava che i funghetti trifolati fossero una varietà di fungo l'ho guardato in maniera un po' stranita poteva andare peggio si poteva mettere l'olio per semi dentro la macchina ho salvato una signorina dal fare questa cosa sto scherzando vorrei ma purtroppo è la verità ricorderò per sempre fuori dall'eurospin bottiglione da 3 litri d'olio di semi senta che sta a fa' e sto a cambiare l'olio ma sei scemo lo ricorderò per sempre me lo ricorderò stava per buttare un macchinone praticamente motore fritto sai che bello sentivi l'odore di tempura mentre andava alla macchina però non mi ha utilizzato l'arco è vero è la skill dei pugnali e i pugnali sono appena andati nel tritari fiuti si li ho distrutti ma morba ma aspetti la signorina metterà l'olio di semi però almeno legge il menu proprio più il meno che bello questo spadone queste deformazioni dei souls cioè qua mi sono fregato da solo perché questo è veramente perché sui souls è quadrato è per togliere l'equip io sono stronzo e sono andato troppo a sentimento micchia comunque c'è raga ma è enorme sta cazzo di spada porca puttana è più harta di me sta roba altro che i souls as vai under key col cazzo di certo non con il bastone c'è la cleric beast c'è il primo vero boss del gioco no non c'è dal centro della piazza esatto c'è il cacco con la barra che spawna con il nome sopra con la musica con la musica con la musica Eeeh avido Micchia se non li pressi i boss Se la riprendono molto presto eh Eeeh avido Eeeh avido Eeeh avido Eeeh come Eeeh avido Madonna al pelo Che tanto è equipaggiamento leggendario Immagino che questo sia garantito Lama sporca di budella A due mani grande spada Eeeh urlo spine Ma che bella sta roba A me non l'ha dato Sono sculato Sculonia Per fare una cheat E' finita la pioggia Era lui Però per adesso forse l'unica roba di questa boss Aspetta lasciamo perdere Ok il Gli stagger Ste cose così Probabilmente che sono un po' sporchi i boss Diciamo Sì Rispetto ai souls Col fatto che sono sempre molto molleggiati Stanno sempre a far robe Sono molto cartoon Le animazioni Tu magari vedi In mezzo alla pioggia Con tutti i riflessi Con tutti i particillari Sta roba qua Sto mostro Che è un abortino Che fa qualcosa E ti arriva addosso E' un po' un peccato Però credo che sia nel mood del gioco Quindi ci sta come roba State your business Quickly Don't think just because you felled the beast You're an ally It's alright, Winnick I apologize for the lack of hospitality My friend here has his guard up for good reason Once the raiders took the old fortress Their bloodshed has drawn more and more of those Things towards our city How did you manage to slay that monstrosity? My god You're Serum The Watcher's call has been answered Ha! I told that old coot he was wasting his time For once I'm glad I was wrong Serum In the flesh and on our island I thought you'd be taller Your kind's welcome within our walls I trust you'll find a home here Seek the Watcher Up in the rookery Welcome To Sacrament Bello tra l'altro questo dentro e fuori dalla cutscene Tipo in sorta terza persona Mickey ha veramente sotto quel punto di vista è qualcosa di incredibile Qualcosa di veramente bello cazzo Tanto 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 bello Viaggio rapido sbloccato Interagissi con il sussuro principale assagamento Per fare cose Vabbè Mickey ha veramente quanto ricorda Diablo sta cosa Che tu diventerai quell'eroe che sistema un po' i problemi di tutti no Minchia se puoi farla ritornare all'alba portandogli i materiali è qualcosa di incredibile Ecco che cazzo serve il legno Non per craftarti l'arco magari O non solo ma anche per far sta roba Chiamala adoro se si può far sta roba E questa diventa a tutti gli effetti una locanda Da il potenziale stasera onestamente l'ha dimostrato L'ha dimostrato il gameplay è veramente fluidissimo È per quello anche che non ho sclerato durante la boss fight appunto Quando c'erano quelle sporcizie Perché sì ti prendi pizze Ma il gioco non è quella roba dove ti mazzolano malissimo Ti sei preso che hai l'uno o due colpi Ti sbregano perché ti fanno male all'inizio giustamente Ma ti dà la possibilità di rispondere Di infilarti Il fatto che la cura è così OP Però te lo bilancia col fatto che non la puoi spammare Esatto non è un boss che ti fa una cazzo di sfuriata sui denti Non è un po' e quando riposi in un punto sussurro Puoi scegli di viaggiare al sussurro principale di sacrament Quando ripassi al sussurro principale di sacrament Puoi scegli di tornare direttamente all'ultimo sussurro visitato al di fuori Sì questo è diablo E letteralmente tu torni a casa Vendi la merda Compri potenzi Fai quello che cazzo che vuoi E poi tu torni L'unico fatto è che non puoi farla a comando Hanno preso veramente tante vene qui e lì E ci hanno creato qualcosa di veramente molto interessante E qua la traduzione ha fatto un po' la monella Perché lei sta dicendo Your temple Your library Your tomb Roba vostra Serim Non una tomba Poi tocca vedere anche a livello di storia di lore Come se va a infilare Perché da quel poco che si era visto Secondo me va pure a infilarsi in degli argomenti Ma il fatto è che non c'è bisogno Cioè quando tu crei un silent hero così Mi ci metti della buona roba attorno Mi ci metti della buon regia Della buona storia Mi ci metti anche banalmente le tre scelte Senza chissà quale roleplay Cioè il fatto è che proprio Loro all'inizio l'hanno detto Noi abbiamo cercato di portare La RPG L'action RPG Verso altre zone Cazzo sì Cazzo sì Mi mangerò le mani per non continuare a giocarlo Però voglio dargli il tempo di maturare al 100% Veramente Potenziale Che in realtà stasera ha mostrato Veramente Io mi immagino un qualcosa di veramente incredibile Cioè stasera mi sono buttato un po' a destra Un po' a sinistra Però qua tu mi immagino dove ti fai veramente Cominci a buildare Cominci ad andarti a ammazzare la roba C'è il farmino tattico Diventa intrigante no? Il trovarti un cazzo di scettro Bastone da mago leggendario o epico Che c'ha 3 skill Magari il poter ti mette Mo' perché ho visto poco Ma magari il poter modificare quelle skill Con roba che ti interessa a te E tutto quanto Diventa qualcosa di veramente figo Cioè se io dovessi prendere vari giochi Da cui hanno preso È per carità sì I souls Ma non è quello il focus Cioè il focus non è dei souls Eh sì ok quella roba lì Però c'è tanto anche di Breath of the Wild Nella appunto sua Apprendere una costola Veramente un botto di roba Molto molto intrigante Hanno fatto un crossover Tra talmente tanta roba Che hanno creato qualcosa di unico A modo suo Infatti è quasi un peccato Che sia un accesso anticipato Davvero Io me li aspetterò questi due anni Non me lo spoilererò E niente Voglio vedermelo finito E quando esce Ce lo giochiamo per bene Se a voi non me ne frega niente Dei piccoli problemi tecnici Su proprio il nostro instangame Credo che sia apparso tipo 75 volte Lo trovate a una trentina di euro Prendetelo Provatelo Io vi consiglio In realtà Prima di prenderlo Da instangaming Compratelo su steam Fatevi la prova di due ore Tra virgolettoni E se non vi intriga Allora fa un date Se vi intriga E volete risparmiare Vabbè ve ne andate su instangaming Però provatelo Perché è veramente Una figata Nonostante tutto È girato anche bene Nonostante fossimo in live Io ho tenuto un po' D'occhio i cosi qua Del gestione di attività 80% di gpu raggiunta Era greve Tocca vedere le temperature in realtà Perché finché sono percentuali Sti cazzi Però li vale Cioè io lo comprerei Bello Ma pure full price Probabilmente per supportarlo Nonostante